Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nell'ultimo video dell'anno ne voglio approfittare di questo video per farvi gli auguri di un felicissimo ultimo giorno del 2019 se questo anno è stato per voi super favoloso spero che questa felicità si trasporti immediatamente nel 2020 diventa difficile ricordarsi il 2020 se invece purtroppo come me questo 2019 è andato un po' che il 2020 sia per noi l'anno della riscossa, l'anno del cambiamento, l'anno della rivincita si la smetto comunque in ogni caso giusto un piccolissimo video per augurarmi e augurarvi una fine dell'anno con i botti di felicità e non quelli là veri e esplosivi perché facciamo paura ai nostri cucciolini, a quattro zampe, ai nostri animalini in generale poi parecchi di loro purtroppo l'ultimo dell'anno tra terrore rischiano di perdere la vita quindi evitiamo di esplodere petardi troppo rumolosi, troppo invasivi sia per noi stessi perché sono pericolosi, sia per gli animalini, sia per la natura perché sono molto molto inquinanti quindi questo ultimo video dell'anno sembra veramente un po' caotico ripetendo vi auguro se il 2019 è stato con i botti che vi si trasportino anche nel 2020 se il 2019 come nel mio dato è stato di cacca che il 2020 sia l'anno della riscossa che l'ultimo dell'anno vi divertiate in serenità con chi amate di più e mi raccomando attenzione ai fuochi di artificio se domani li trovate inesplosi non li toccate e anzi mi raccomando non utilizzate i fuochi di artificio, botti eccetera perché i nostri amici hanno paura e rischiano la vita, i nostri animalini rischiano la vita ok, chiudo, vi auguro una fine dell'anno buonissima e happy new year